Tragico incidente sul lavoro, mercoledì mattina in via Lombardia, di fronte all'acciaieria Intals di Parona. La vittima è un operaio egiziano di 50 anni, residente a Vigevano, dipendente di una ditta esterna, precipitato dal tetto di un capannone mentre stava lavorando. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino di mercoledì. L'uomo si stava occupando della pulizia dei pluviali quando è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Si trovava sul tetto di un capannone di proprietà privata, utilizzato dalla Intals come deposito, ma non di proprietà dell'azienda che si occupa di riciclo dell'alluminio. In base ai primi riscontri sembrerebbe che sia ceduto il pannello in plexiglass su cui l'operaio era appoggiato. Le indagini sono comunque ancora in corso. Per l'uomo di 50 anni non c'è stato purtroppo niente da fare. La vittima è morta sul colpo dopo la caduta. Troppo gravi le ferite riportate. Per i soccorsi sono state subito allertate un'automedica di Areu e un'ambulanza della Croce Azzurra Robiese. Poi è stato chiamato anche l'elisoccorso. Secondo quanto comunicato da Areu, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto immediatamente sul posto. Per tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri insieme agli ispettori di ATS che dovranno ricostruire nelle prossime ore l'esatta dinamica della vicenda e controllare che nell'occasione siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro.